Sabrina. Silvia. Cosa fai nella vita? Disegno fitness. Disegno fitness, alleno ginnastica artistica. Da quanti anni nella fiffa? 13. 1 e mezzo. Single o fidanzata? Fidanzatissima. Da quanti anni? 4 e mezzo passo. Qual è l'ultima gara che hai vinto? Beh, vinto, vinto, vinto ancora no, però ieri è andata bene. Prima vittoria personale ieri. Che cos'era? Saranno presente. Incorporo e sano. E chi è l'altra che ha vinto? Silvia. Sabrina. C'erano altri partecipanti? Sì, certo. Due maschi. Due maschi? Viva le donne. Cosa pensi degli altri due che hanno perso? Perdenti. Sono fighi, però siamo i migliori. E invece cosa pensi dell'altra tua concorrente? Eh, una gran gnocca. Eh, la Sandra è proprio brava. È una gran persona. Dille il suo più grande difetto, urlaglielo. Sei troppo gnocca. Pensi troppo. Urlagli il suo più grande pregio. Sei troppo gnocca. c'è le tette più grosse delle mie. Imitami Silvia. No, c'è, guarda che brufoli c'è. No, io? Ma Sabri mi trucco? Ciao ragazzi. Allora oggi faremo questa lezione insieme. Io sono di Vicenza. Divertiamoci. via, partiamo. Perché dovresti essere tu a vincere e saranno presenti al 2014? Perché faccio qualcosa di diverso. Perché vengo da Trento e non ha mai vinto nessuno dal Trentino Alto Adige. Invito a tutti a venirvi a vedere a Welcome Fitness ad aprile. Ragazzi veniteci a vedere a Livorno e vi divertirete un casino. Yeah. Ciao.